Con orgoglio che riceviamo questa sponsorizzazione. La sponsorizzazione di maglia non è soltanto un modo per incrementare il fatturato, ma è la testimonianza che c'è attenzione sulla nostra squadra, sul nostro movimento, sul Cesena Calcio. Noi siamo felici che l'azienda che opera sul territorio nazionale abbia un cuore romagnolo, un cuore cesenato. Io ho scoperto solo ieri sera che per Luigi era un vecchio amico il presidente di PLT, un vecchio amico quando eravamo ragazzi al bar Carducci a Cesena. Ovviamente come si fa a non pensare al Cesena, io dal di fuori lo seguo, lo seguo nelle sue vicende societarie, nonché sportive. Dicevo proprio stamattina a Giorgio che ci siamo rivisti dopo 40 anni, dal 1975, avevamo 18 anni, nel 1975 eravamo più o meno tutte le sere lì fuori a far chiacchiere come si faceva una volta. e però lo seguo con estremo affetto perché mi sono sempre chiesto che pazienza ci vuole a stare dietro a una squadra di calcio.